Salve a tutti, buona martedì, è il giorno di Lazio-Milan ma è anche un giorno molto caldo per quanto riguarda l'affare Zaniolo ne parleremo nel corso di questo video, come sempre lasciate il like e iscrivetevi al canale YouTube perché è fondamentale per la crescita di questa community cominciamo subito però con la notizia che ieri per certi versi ha anche un po' dell'incredibile, no? incredibile davvero perché il Milan nel momento in cui riesce a recuperare uno o due giocatori mi viene in mente Kronic che dopo un mese è tornato a partire con la squadra quindi tra i convocati di una partita se ne fa male un altro, è chi tra l'altro? Uno dei migliori, uno dei più importanti anche se c'è da dire che nelle ultime partite Teo Hernandez purtroppo non ha giocato ai suoi livelli ma è normale, è un calo fisiologico dopo aver giocato al massimo il mondiale Teo Hernandez purtroppo, anche se davvero mi verrebbe da esclamare incredibile, incredibile, purtroppo però il giocatore è rimasto a Milanello perché ha le prese con un affaticamento muscolare, diciamo che non sta benissimo Teo, lo si è visto anche nelle ultime partite sia con il Lecce dove è stato sostituito sia in Supercoppa contro l'Inter dove non ha giocato ai suoi livelli però il Mian ha preferito lasciarlo a riposo in questo match contro la Lazio, l'ha lasciato a Milanello dove sta lavorando con calma per recuperare forze e energie e con la speranza che possa tornare prima possibile in campo il Milano dice che si tratta di un affaticamento muscolare, dunque non giocherà questa partita contro la Lazio dove invece ci saranno un po' tutti gli altri titolari e poi dopo affronteremo il tema Zaniolo tutti gli altri titolari come Giroud, come Brian Diaz, come Leao, come Calulu e Tomori in difesa, Calabria mentre al posto di Teo Hernandez dovrebbe giocare Serginio d'Esta d'altronde sia Florenzi sia Ballotouré sono fuori per infortunio quindi alla fine sono pochi gli esterni da poter schierare in campo a centrocampo invece dovrebbero giocare sia Tonali che Ben Nasser per quanto riguarda Zaniolo, ora ne parleremo, è un'operazione sempre più calda perché già ieri sera abbiamo lanciato il video con l'ultima ora riguardante la possibile offerta che il Mian è disposto a mettere sul piatto cioè il Mian ha fatto capire di poter arrivare ad una certa cifra e qual è la cifra che vuole raggiungere il Mian? poi ditemi se secondo voi è una cifra che tutto sommato la Roma può accettare o invece alla fine questa operazione proprio perché non si raggiunge l'accordo può saltare o non si può concretizzare allora la situazione è questa il Mian ha offerto o vorrebbe offrire alla Roma una somma attorno ai 20-22 milioni di euro bonus compresi quindi è strutturata in maniera particolare questa offerta con un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo nel momento in cui il Mian si qualifica aritmeticamente alla prossima Champions League a 20-22 milioni poi dipende anche dai bonus che vengono inseriti in questa offerta la Roma risponde e vorrebbe 35-40 milioni probabilmente sui 35 si potrebbe anche accontentare ma c'è il problema anche in questo caso della formula perché la Roma vorrebbe sì un obbligo di riscatto ma non condizionato a determinati obiettivi cioè la Roma vorrebbe un obbligo di riscatto secco vorrebbe che il Milan indipendentemente da come dovesse concludere questo campionato andrebbe a riscattare obbligatoriamente Zaniolo quindi la cifra è abbastanza diciamo il divario tra domande e offerta è abbastanza ampio si parla più o meno di un 15-18 milioni di differenza invece per quanto riguarda la formula lì si può anche cercare una mediazione però al momento la Roma dice no vedremo se nei prossimi giorni la Roma comincerà ad ammorbidirsi su questa proposta del Milan però diciamo anche che Zaniolo vuole il Milan a tutti i costi cioè Zaniolo in questo momento ha in mente solo una squadra cioè il Milan non c'è il Tottenham, non c'è il Brighton non ci sono altre formazioni estere lui vuole rimanere in Italia e vuole andare al Milan questo lo ha fatto capire tramite i suoi agenti lo ha fatto capire tramite il suo entourage Zaniolo vuole il Milan sta spingendo per la soluzione rossonera e a questo punto la Roma deve scegliere se tenersi sul groppone un giocatore scontento, fuori rosa, in rottura con l'ambiente e anche con la squadra per altri sei mesi fino all'estate poi lì deciderà cosa fare oppure guadagnare di meno 20-22 milioni dal Milan e cedere il giocatore c'è anche chi dice ma la Roma non può cedere o non vorrebbe cedere un giocatore ad una diretta concorrente per la Champions League sono tutti ragionamenti leciti ragazzi però la questione è prendere ora dei soldi sicuri 20-22 milioni oppure svalutare ancora di più il giocatore e in estate la Roma potrebbe incassare ancora meno rispetto a questa cifra con una situazione di stallo con il giocatore che a Roma non vuole più rimanere ha deciso di non presentarsi comunque agli allenamenti o comunque non rispondere alle convocazioni come è successo nella partita contro lo Spezia è una bella grana per la Roma la dirigenza giallorossa ad essere onesti ad oggi ha risposto che non accetta le condizioni del Milan ad oggi poi da qui a 5-6 giorni quando si va verso la fine del calciomercato le cose magari potrebbero cambiare però noi per onorare del vero abbiamo sempre detto che questa è una operazione comunque difficile e la difficoltà sta del fatto che la richiesta della Roma è alta 35-40 milioni e la formula deve essere obbligo di riscatto secco senza condizionamenti il Milan inserisce il condizionamento della qualificazione alla Champions League c'è però ragazzi una firma che sta arrivando e che l'avevamo annunciato mesi fa chi segue questo canale sa che mesi fa già ne abbiamo parlato oggi ne parlano tutti ma comunque lo abbiamo detto penso a settembre o settembre-ottobre cioè il rinnovo di Olivier Giroud con il Milan ora dopo le parole di Olivier la cosa sembra molto avanzata perché giustamente il giocatore è uscito allo scoperto ha detto io voglio rimanere al Milan voglio firmare il rinnovo sono entrato nel cuore dei tifosi voglio vincere ancora dei trofei con il Milan naturalmente queste sono parole che sicuramente hanno fatto piacere alla dirigenza ma non ce n'era nemmeno bisogno perché il Milan sapeva di questo desiderio di Olivier Giroud dunque ci sarà un incontro prima possibile ci sarà da limare alcuni dettagli dettagli finali ma poi arriverà la firma di Olivier Giroud si va verso un solo anno di rinnovo precedentemente si trattava su un anno più il secondo uno più uno invece il Milan va verso il solo e singolo anno di rinnovo con Olivier Giroud quindi con scadenza nel 30 giugno del 2024 e questa diciamo l'idea del Milan con Olivier Giroud che è felicissimo di poter firmare questo rinnovo con i lossonieri c'è anche un giocatore è un giocatore che sta per andare via ed è Bakayoko non è stato nemmeno convocato per la partita di questa sera contro la Lazio a Roma manca una settimana alla fine del calciomercato ma tutto sommato Bakayoko deve decidere se accettare questa proposta della Dana Demispor squadra gestita, allenata da Vincenzo Montella che ha chiamato personalmente Bakayoko per farlo andare in Turchia lui dovrebbe risolvere il contratto con il Milan e anche con il Chelsea o potrebbe anche risolverlo solo con il Milan rimanere di proprietà del Chelsea e andare in prestito alla Dana Demispor ma l'idea è quella di rescindere con entrambe le società Chelsea e Milan e accordarsi ex nuovo da capo con i Turchi della Dana Demispor per tre anni a 3 milioni, 3 milioni e mezzo comunque cifra importante per Bakayoko che al momento al Milan è totalmente fuori dal progetto non gioca, non ha mai giocato zero minuti per il giocatore francese chiudiamo dunque questo video dopo questa lunga carrellata di notizie di calciomercato su Zaniolo, su Giroud, su Bakayoko anche dicendo che questa sera c'è un appuntamento fondamentale per il Milan perché? perché ieri l'Inter ha perso ha perso anche male contro un Empoli che è arrivato a San Siro e ha messo l'Inter sotto ha segnato ha vinto 1-0 anche su una mezza papera di Onana l'Inter quindi resta alle spalle del Milan il Milan ha l'opportunità in questo momento di staccare un attimo il gruppone alle spalle di qualche punto vincendo la partita con la Lazio e avvicinarsi leggermente al Napoli poi si vedrà cosa succederà nei prossimi giorni magari l'effetto Zaniolo se dovesse arrivare potrebbe essere un segnale per l'ambiente, per il campionato per la squadra stessa perché mettere comunque un giocatore di qualità in rosa vorrebbe dire dare anche una nuova linfa una nuova energia ai giocatori stessi di Stefano Pioli Pioli che comunque non cambia va avanti con il suo 4-2-3-1 dovrebbe scegliere Diaz alle spalle di Giroud con Leao e Salemeckers alle spalle con Tonale e Benassera a centro campo con Calabria, Calulu, Tomori e Dest davanti a Tatarusano questo dovrebbe essere l'undici di Stefano Pioli che questa sera sfiderà la Lazio all'Olimpico match davvero difficile ma di una importanza notevole ci vediamo più tardi con altri contributi sul Milan grazie a tutti